Cambio dei vertici di Lucenze, la società pubblico-privata che opera nei settori della ricerca industriale, dello sviluppo sperimentale e del trasferimento tecnologico, si è riunita lo scorso 20 maggio per approvare il bilancio 2012, chiuso con utile di esercizio e per rinnovare le cariche sociali. Così, fra tante riconferme, emergono anche nomi nuovi nel Consiglio di Amministrazione, in alcuni casi già noti alla città. Fanno parte di questi il dottor Giovanni Polidori, il professor Claudio Montani, il professor Fabio Pammolli, il professor Nicola Lattanzi, il dottor Alberto Baraldi e Cataldo Maida. Riconfermati invece Olivo Ghilarducci, Riccardo Lanzara, disegnato dalla Camera di Commercio di Lucca, Alberto Baretti, disegnato dal Banco Popolare, Claudio Romiti da Assindustria e Antonio Fanucchi, vicepresidente di Comfcommercio Lucca. Cambio della guardia anche alla presidenza di Lucenze. Lascia Claudio Romiti, da gennaio nuovo direttore di Assindustria Lucca, e prende il suo posto Alberto Baraldi, per 15 anni direttore generale di Salov. Resta invece invariato il collegio sindacale preseduto dal dottor Umberto Bocci.